gentili telespettatori buona giornata è la linea dei 5 stelle del pd e di conte quella linea del no a renzi vuole tornare assolutamente no ha fatto quel che ha fatto basta insomma quella linea anti renzi comincia a vacillare tra i 5 stelle perché perché i 5 stelle come abbiamo detto forse un milione di volte sono quelli tra di tutti tra tutti che vanno a perderci di più nel pd il pd ha mantenuto i suoi votanti anche se cade il governo la maggior parte verrebbero rieletti nel n'italia viva e nei 5 stelle e in forza italia se cade il governo questi tre partiti sono alla frutta molti perderanno il lavoro quindi è comprensibile anche la paura dei 5 stelle che naturalmente loro non parlano di questi ma parlano di altre cose cioè non dicono cavolo qui qui io come pago il mutuo dicono tre governi in tre anni come la dc così esplodiamo quindi cercano le attenuanti e le scuse più più curiose addirittura parlano della dc al posto che parla dello stipendio parlano tre governi in tre anni come la dc è così la linea ufficiale dell'ex capo politico di maio che poi è sempre il capo politico dice no a compromessi di bassa cucina ma cos'è un compromesso di bassa cucina ma cos'è cos'è la bassa cucina una bella non cucina una una bassa cucina che cos'è una bella pasta e fagioli cos'è la bassa cucina non so è buona la bassa cucina ma ma le chat dei parlamentari pentastellati ribollono meglio renzi o mastella forse meglio lo stipendio insomma è una bella domanda meglio renzi o mastella ma nessuno di tutti e due ma neanche ma neanche regalati nelle patatine neanche le figurine di renzi o mastella ti possono rovinare la giornata se li guardi no dovresti girarle dall'altra parte ste figurine perché ti modificano con degli influssi così compatti intorno a giuseppe conte ribadiscono nella nella linea comune del movimento compatti intorno a giuseppe conte sì se no poi con le chat dicono ma che ma qui qui va tutto va tutto a carte 48 ribadiscono l'impossibilità di qualunque riavvicinamento a matteo renzi nelle nei comunicati ufficiali nei comunicati ufficiali emerge questa la linea ufficiale del partito il partito è un movimento il movimento che cos'è un partito si chiama movimento 5 stelle no però è un partito come tutti gli altri anzi li chiamano gruppi parlamentari così c'è stata una lunga riunione tra rocco crimi detto vito il capo delegazione alfonso buonafede e i direttivi di camere senato che produce la stessa posizione il premier non si tocca e no al leader di italia viva anche gigino di maio il grande l'uomo che sussurrava e sussurra tuttavia al virus lavora al fianco dei ministri del movimento sottolinea l'importanza di individuare un percorso di stabilità al paese al fianco del presidente conte ve l'ho raccontato anche ieri che gigino di maio punta a diventare un parlamentare di conte non può fondarsi un partito di maio sarebbe un partito da zero virgola qualcosa forse neanche quello quindi dove andare cosa c'è di meglio che andare in un nuovo partito di conte che magari al 10 per cento lui può e lui può fare anche l'uomo di fiducia di conte il fedelissimo e imparare anche le tecniche giuseppiane perché il giuseppi ci ha dimostrato comunque che è un bel personaggio il giuseppi zitto 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 resiste sempre fa fuori tutti gli altri zitto zitto e così di maio dice bisogna stare al fianco del presidente conte e così si dice contrario gigino come tutta la squadra 5 stelle a compromessi di bassa cucina ma poi cercherò su google cosa significa bassa cucina perché sinceramente la prima volta che sento la bassa cucina cos'è tipo trattoria provate ad andare in una trattoria adesso come vi pelano cosa costa una trattoria trattoria sinonimo ristorante di lusso una trattoria lì si mangia tanto si spende poco no nelle trattorie adesso si mangia poco e si spende tanto ma non era quella di camionisti ma quale camionisti vabbè e poi invita un appello a tutti i costruttori europei in parlamento ma va la te i costruttori non sai neanche di che cacchio stai dicendo è così chi ha partecipato alla riunione di 5 stelle e in realtà parla di un movimento tormentato a caso di una crisi che agita le truppe parlamentari ovvio sono agitati c'è chi ha il mutuo c'è chi ha il prestito per la macchina c'è chi ha dei progetti di vita che dice come qui a metà legislatura sono disoccupato ma state scherzando passo dal parlamento al divano col cellulare non so chi chiamare chi mi assume insomma si va verso una crisi sociale terribile con la cassa integrazione che finisce a fine aprile a marzo la disoccupazione schizzerà le stelle e questi e si aggiungono anche i grillini nella disoccupazione del paese non escono più ma chi se li carica come diceva gasparri io sono un giornalista dice gasparri uno straccio di lavoro lo trovo ma uno come fico fuori di qua che cosa va a fare è quello che vi chiedo anch'io ma uno come fico che cosa fa fuori dal parlamento non dite parolacce il clima è rovente e lo si comprende nel pomeriggio quando le agenzie iniziano a diffondere gli dispacci di questo tenore panico nel movimento 5 stelle i numeri non ci sono e c'è chi chiede stop al veto su renzi ebbe 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 e così le chat di senatori e deputati esplodono la preoccupazione è tale che i messaggi più teneri recitano così meglio ma stella o renzi qui i responsabili non ci sono fa ecco un componente di peso dell'esecutivo beh quindi una parte del momento 5 stelle spera in un ritorno di renzi no mi ritorni in mente bello come sei insomma è così qualcuno dice because eh no avete visto l'inglese di renzi no because ecco meglio because che che mastella no e poi chi auspica anche fortemente che l'avvocato del popolo non tocchi la squadra e assegni le deleghe all'agricoltura e alle pari opportunità il motivo così gli attuali ministri conservano le loro amate poltrone cioè gli stanno dicendo niente rimpasti dai hai già le due poltrone delle renziane di missionari e quelle dalle dalle a qualche mercenario perché c'è qualcuno che vuole se c'è qualcuno che ha detto sì io potrei venire con voi mi fate fare il ministro e quell'altro gli avrebbe risposto ma vuoi fare il ministro mi stai chiedendo di fare il ministro siamo alle comiche vuoi che voto per voi fatemi ministro così me lo scrivo sul curriculum beh insomma ragionamenti che i direttivi di camere senato riportano per filo e segno alla riunione con crimi e buona fede e dovrebbero scritto la seguente tesi noi dobbiamo difendere conte non tutto il pacchetto e ancora occhio a chiudere la porta a renzi non si sa mai dovessimo nuovamente sederci al tavolo con con lui no come l'innomineto come dice come dice quello del fatto quotidiano no che lo chiama l'innominato perché se lo nomina gli arriva qualche denuncia anzi sicuro renzi non sta aspettando altro che denunciare ancora travaglio perché lo insulta quindi lo chiama l'innominato l'innominato beh e qualcuno dice è evidente che stiamo per esplodere siamo al terzo esecutivo in tre anni abbiamo eguagliato la dc la democrazia cristiana io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata